siamo in uno dei posti più belli del mondo devo dire chiaramente per coloro che amano la natura sono nella vallata del Sestaione che è un fiumiciatolo posto di ristoro come vedete ci sono delle panchine predisposte c'è una vegetazione di abeti pluricentenari possiamo vedere la guardia forestale ha predisposto questo posto per l'utilizzo da parte dei gitanti quella che vedete è una capanna per modo di dire grazie